Finisce 1-1 l'incontro tra Atletico Catania e Agira Nissoria, valevole per la seconda giornata del torneo di promozione. Ancora una volta l'Atletico stecca all'esordio casalingo mancando il successo, ma a differenza del debutto in Coppa Italia contro la Sicura Leonzio, stavolta i ragazzi di Rikiki strappano un punto che muove comunque la classifica. Con tutti gli elementi a disposizione il tecnico Etteneo ha problemi di scelta per comporre il suo abitudinario 4-3-3, ma stavolta davanti a Calabretta vengono schierati Platania e Domenico Leonardi, coppia centrale, quest'ultimo al suo esordio stagionale. Così come fa il suo esordio oggi Conti, lo scorso anno già in maglia blu, l'altro esterno di difesa è Di Stefano. Minutola, Pidatella e Lamonica compongono un centrocampo dei piedi buoni. Bracciolano, Ventura, Leonardo e Mario il tridente offensivo. I primi 15 minuti sono un monologo degli ospiti in maglia giallo-rossa che vanno vicini al vantaggio per ben due volte, la prima sul calcio di punizione di Ingarto e poi su un allungo di Fayet. L'atletico sembra impaurito, non riesce ad opporre reazione. La conseguenza di tanta pressione è il gol degli ospiti su un'insuccata di Fayet che lascia sul posto il diretto marcatore e trafigge Calabretta. Malgrado lo schiaffo subito, l'atletico non riesce ad imbastire una manovra ordinata, restando imbrigliato nella ragnatela di centrocampo composta da Macchionne, allenatore ospite. Ventura e Bracciolano si danno da fare, quest'ultimo ha tra i piedi un'ottima opportunità, ma la deviazione è debole e finisce di poco a lato. L'atletico ci prova, ma la manovra è stranamente basata su lanci lunghi e non sul solito possesso palla. Il primo tempo si chiude tra le polemiche per un dubbio fallo su Di Stefani in aria ennese che fa gridare al rigore, ma non è d'accordo al signor Anza di Siracusa. La ripresa vede l'atletico più in palla e cominciano a fioccare le azioni da gol. Ventura e Bracciolano hanno ottime occasioni in entrambi i casi e provvidenziale l'intervento di Saraniti. Ci prova Leonardo Di Mario con un tiro alto sopra la traversa. L'atletico mette pressione e sale il nervosismo, ne fa le spese Fayet che viene allontanato da campo per eccessivo agonismo. In dieci uomini la gira si chiude a difesa del risultato e sembra un monologo etneo, ma il signor Anza vuole mettere la firma sulle sorti della partita. Dapprima non vede un fallo di mano di un difensore ennese, su segnalazione del segnalinie prima assegna il rigore, poi ritorna sui suoi passi assegnando una punizione del limite. Per fortuna il dio del calcio fa giustizia e dona a Ventura il gol del pari con una botta che si spegne all'angolo destro di Saraniti. Il pari galvanizza l'atletico che però non riesce più ad aprire la difesa avversaria. Al 93 il protagonista diventa il segnalinie che si inventa una posizione di fuorigioco di Scaravilla che di testa segnava la rete del 2-1. Così si chiudeva una domenica strana per l'atletico che di fatto dilapita tre punti alla portata, facendo notare un basso indietro sul piano del gioco e forse qualcuno in più sull'approccio mentale di questa squadra alle partite. E da domenica inizia un ciclo terribile, fatto in ordine di Aci San Filippo, Real Aci e Palazzolo. Lì capiremo di che pasta è fatta questa formazione, che deve darsi una mossa perché il campionato è tosto e oggi se ne è avuta la riprova.